Siglato nei giorni scorsi a Palazzo di Giustizia e protocollo d'intesa sulle spese straordinarie necessarie alla Prole, il Tribunale di Sulmona è tra i primi in Italia a regolamentare nel rapporto tra genitori separati le spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori o non economicamente dipendenti. L'accordo è stato firmato dal Presidente del Tribunale Giorgio Di Benedetto, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense Gabriele Tedeschi e dal Presidente dell'Associazione di Avvocati di Famiglia Cammino, Anna Berghella. Si punta eliminare la conflittualità tra genitori separati e le incomprensioni, nonché disciplinare modalità e responsabilità delle spese straordinarie. Il documento, spiega Anna Berghella, è nato dall'esigenza di trovare criteri valutativi preliminari e chiari relativamente alla determinazione delle spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile al fine di evitare incomprensioni e liti tra i genitori che spesso portano a spiacevoli conseguenze giudiziarie. È ormai chiaro a tutti gli operatori del settore, infatti, che più che la separazione è la conflittualità tra i genitori a produrre effetti negativi sui figli, aggiunge l'Avvocato ribadendo che il protocollo sarà un valido aiuto per i genitori per evitare discussioni ricorrenti, ma oggi è sicuramente di supporto al Tribunale di Sulmona che una volta in più si pone all'avanguardia nel panorama dei fori italiani.